Infiltrazioni mafiose in due comuni della fascia ionica, Ammoio e Malvagna, dove le fiamme gialle di Messina hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette soggetti accusati a vario titolo per i reati di associazioni a delinquere di stampo mafioso e per episodi contro la pubblica amministrazione. Le indagini condotte dai militari hanno permesso di disvelare una struttura criminale di stampo mafioso e autonoma rispetto alle articolazioni di Cosa Nostra Catanese. Il gruppo criminale in questione, avvalendosi della legittimazione mafiosa derivante dalla contiguità al clan de Cintorino, si sarebbe impossessato delle realtà comunali di Ammoio e Malvagna. Nel mirino dei finanzieri il sindaco di Ammoio, un vice sindaco in carica e un ex assessore elevori pubblici, il tutto incentrato sulle modalità di ingerenza nella gestione degli appalti pubblici, attraverso imposizioni di ditte gradite e mediante amministratori locali compiacenti che, a loro volta, in assenza di provviste corruttive, ricevevano ugualmente sostegno elettorale.